buona domenica a tutti sono luigi unarac se preferite bentornati su dragon ball z dockham battle analizziamo l'evento di gogetta 50 stagna finalmente gogetta int è cosa certa cosa buona e giusta arrivo previsto da domani a giovedì di stigione dovrebbe arrivare probabilmente anche domani ma domani martedì più probabile quindi vediamo nei prossimi due giorni insieme al dockham feste tutto quanto non ho ancora annunciato nulla riguardo can feste tutto penso lo stiano per annunciare in quel momento vi farò il video annendolo anche i festeggiamenti dell'extreme z awaken hanno messo broly 3 su goku agl avrei sperato di vedere goku 3 dentro barda ma vabbè vediamo quindi cosa dire di questo evento ragazzi gogetta è relativamente semplice come evento di sicuro è meno una rottura di scatole di janemba abbastanza rapido iniziamo ad analizzare le sue varie fasi e vediamo un pochino come portarci a casa il miglior pg del gioco visto come singolo pg ancora oggi nel jab visto che globalmente ha perso il primato causa team che sta sotto molti altri soprattutto nella road se non hai go nell'air e iniziamo con la fase 1 come al solito come sempre nelle 50 stamina che vedono le fusioni abbiamo i due pg non fusionati abbiamo quindi vegete goku super seien angel tech e agl se non erro non faccio da una vita l'evento di gogetta hanno entrambi un milione di hp e una damage reduction del 40 per cento quindi per cui li potete shottare con una facilità abbastanza elevata non sono pericolosi fanno danno normale attaccano un po di volte ma niente eccezionale lanciano una special ogni due tre turni circa non dovrebbero essere i pg che causeranno la vostra disfatta almeno è quello che spero per voi perché i casi ogni pg che causano la vostra disfatta non è una cosa più di tanto positiva comunque andateci pesante attaccateli con tutto quello che avete un gogetta ssr un gogetta ur basta e avanza a fargli dimenticare il perché si vogliono fondere e li dovreste eliminare senza eccessiva preoccupazione e dopo aver affrontato i due pg sfusi inizia la fusione che finisce molto male finisce molto male in quanto uscirà fuori becu fisico hanno avuto il coraggio di mettere becu come nemico questo è di sicuro la parte più facile dell'evento un milione duecentomila circa hp e una riduzione del danno del 20 per cento io non commento minimamente non commento minimamente riguardante questa fase un danno giusto nel caso di special fa le special normali però non è che sia chissà quale creatura devastante tutto è sempre molto molto sul soft affrontatelo eliminatelo senza eccessive preoccupazioni la parte difficile deve ancora arrivare sconfitto la fusione si scioglie e dovremmo vedercela contro il prossimo nemico ed eccoci alla terza fase terza fase che vede piccon entrare in scena piccon tour tech un milione cinquecentomila dhp per 40 per cento di damage redaction ragazzi anche questo è facile a pochissimi hp il nemico una riduzione del danno abbastanza insulsa un 40 per cento serve a poco o nulla però inizia a stare attenti perché attacchi iniziano ad essere tanti nel caso non siate a livelli molto alti e con team ben messi potrebbe darvi qualche piccolissimo problema ma ripeto ragazzi niente di eccezionale niente di terrificante colpitelo con i vostri maggiori dps e lo eliminerete facilmente il danno massimale sui 120 130 mila a una gl ma davvero preoccupatevi poco non è un evento difficile dovreste riuscire a farlo senza eccessivi problemi ed eccoci infine alla fase finale o finalmente siamo contro gogetta int e questa è l'unica fase minimamente complessa in tutta la battaglia minimamente perché anche questo è abbastanza easy però è l'unica fase che ha un sentore da 50 stamina il resto è stato davvero troppo facile nessuno con neanche 2 milioni di vita allora gogetta int ha 3 milioni di vita circa con 60% di damage redaction e picchia ragazzi picchia abbastanza non può essere stannato non può essere silato salvo che non lo facilito nel globo come hanno fatto con gogetta quarto ma spero di no è capace di fare dai 30 ai 40 mila danni in media con i pugni e fino a 160 mila danni con la special non prende troppo sotto gamba può lanciare anche una special turno utilizzate gli oggetti se ne avete bisogno oppure utilizzate semplicemente dei team più grossi di quanto lui possa immaginare un shadow dragon non è che lo distrugge no di più che cosa sta facendo questo essere inutile plac dicevo shadow dragon lo distrugge malamente extreme fisico lo distrugge malamente non è un evento pensato per reggere un team fisico non ha str il che ve lo fa capire abbastanza in fretta come se non bastasse gogetta subisce danni immondi una damage redaction inferiore allo zero subisce danno amplificato contro i pg che legano bbb quindi basta subire qualche danno contro piccon arrivare contro gogetta carichi incavolati e lo disintegrate totalmente come evento vi ripeto non è difficile finché avete un team abbastanza decente shadow dragon perché l'hanno fatto usare già nel global che distrugge la già poca difficoltà vabbè scelte del cavolo ed ecco questo è quello che fa questo quello che è gogetta un evento medio facile senza particolari senza particolari difficoltà o altro nel canale potete già trovare la guida effettuata con team super str credo o era genemba super str non ricordo qui trovate una marea di run già ne pubblicherò altre a partire da domani che sono le famose run che tengo da parte quando fa quando le inizio a registrare per far uscire quando esce nel global vi auguro in bocca al lupo vi ricordo infine i link in descrizione per il gruppo global il gruppo giap il gruppo gaming i gruppi vari social media instagram soprattutto quello del sommo invincibile prescilla e se ancora non avete acquistato stone per la bacia di gogetta anche la c'è il gruppo dei random heroes in descrizione per il codice sconto prescilla detto questo noi ci vediamo domani domani con di sicuro almeno le linee guida riguardanti l'extreme z awaken di goku non l'analisi le linee guida in quanto comunque pare che siano più di 30 stage quindi per una guida vera e propria aspettiamo un secondo se erano meno stage l'avrei potuto fare già domani ma con 30 stage di file io che lavoro fino a sera non so se riesco a farmeli tutti e 30 di fila magari i primi 20 me li riesco anche a fare quindi riesco più o meno a capire la difficoltà e vediamo e vediamo quello che riesco a portare poi inizieranno le varie run di gogetta le varie run di janemba inizierà l'analisi di gogetta di janemba con prima ancora un video dove pullare se gogetta uscire domani cerco possibilmente di far uscire già domani in modo da dire se vale davvero la pena o no questo pullare tutto quello che sia su gogetta perché vi ricordo che ci sono comunque dei punti oscuri dato che in realtà è già iniziato il meta successivo e tutto quanto vedremo se vai a prendere la giojanemba ma quello ormai penso che lo sappiate più o meno tutti sono già disponibili i migliori team di entrambi i colori ci sono le analisi dei pg l'analisi di goku terzo agl anche se sa già tutto quello che fa poi il 22 uscirà eros nel jap quindi nuove analisi e tutto quanto finalmente uscirà il meta builder per il team busaga attendo soltanto di vedere sulla carta davvero quante buono goku agl per capire come costruirlo al meglio il team potara e infine si arriverà a dicembre con il nostro amatissimo bardak super saian 3 ci vediamo quindi più tardi con naruto e one piece uscirà probabilmente più di un video perché sono in ritardo una settimana con naruto causa cose ma ho già registrato anche quello di yugito che farò uscire prima ancora di quell'altro e forse stasera con un flash news se c'è anche i festeggiamenti di guanti gogette janemba grazie per aver seguito e noi ci vediamo al prossimo video alla prossima ragazzi e buona domenica